E sono a tanto. Fine vita. Come stabilisce la legge da quando sulla terra non c'è più posto per tutti. Io sono la sua assistente al trapasso programmato. Il governo globale le invia i suoi più cari auguri. Pronto, sono il papà di Margot. Prendo la vede, le dica di passare a trovarmi questa sera. E' importante. Prossima navicella in partenza per Virgo tra due minuti. Sono stato un uomo di scienza, non un cretino. Eppure mi sono lasciato ingannare da una donna. Progettai Virgo il pianeta del mondo. Che bellissima festa! Ma lei è un moneta. Vuole già rivedermi? Il governo globale ti vuole bene. Che bellissima è da arte. La morte va bene! Abbiamo rived nouvelles! Gius! Prende l'eau.